Ospite della prima puntata del Sasso dello Stagno di questo 2024 è stato il presidente della provincia del Verbano Cusiossola, Alessandro Lana. Presidente, uno dei temi che ultimamente sta tenendo banco nella cronaca della nostra provincia è il tema dei frontalieri. La provincia fa capo il tavolo del frontalierato. Che cos'è questo tavolo e qual è il tema più urgente che state affrontando? Il tavolo del frontalierato è un tavolo che al cui interno ci sono tutte le rappresentanze sindacali sia italiane che svizzera e tutta una serie di interlocutori degli enti locali che sono stati scelti nel tempo, più ovviamente i rappresentanti della provincia e i parlamentari locali. Il tema sicuramente più caldo dell'ultimo periodo, dell'ultimo tavolo, adesso ne convocheremo uno a breve nuovamente, è quello regato al nuovo accordo dei nuovi frontalieri che partono da quelli che sono stati assunti il primo gennaio in poi. E poi questa tassa, diciamo, chiamata così sulla salute, dal 3 al 6% sull'importo netto dello stipendio di un frontaliere che è emersa nell'ultima legge di bilancio e che è stata approvata, su cui bisognerà adesso capire e sperare, provare almeno, visto che non è andata bene la richiesta di stralcio che come tavolo avevamo fatto, almeno che la regione Piemonte si impegni a mettere, ad applicare la liquida minima rispetto a quella che è la tassazione. Grazie.